Le campionesse si sono dimostrate finora bravissime, con percentuali altissime nel trovare l'ultima parola. Vediamo stasera come andrà per loro, ma giochiamo tutti insieme, partendo da raccolta. Ci ho, ho finale e il terzo elemento. Allora, c'è la raccolta dei rifiuti, differenziata. Raccolta punti, silenzio. Sì, raccolta per essere inteso, anche tipo raccolta in preghiera. La raccolta punti si fa sul catalogo, forse un album. Oppure c'è raccolta, sì, quella che dicevi tu. Una persona raccolta, quindi chiuso in se stesso. Sì, meditazione, oppure raccolta qualcosa che è stata raccolta. Tipo l'orto, gli ortaggi. Sì, sono anche tipo punti di raccolta, non so se sono chiamati così. La raccolta non è anche, ad esempio, una collana di libri, no? Ah, sì. Una raccolta. Ok. Oppure può essere comunque anche la raccolta inteso dei frutti. Sì, quello è più, non è il raccolto, no? Vabbè, comunque sì. Quello che intendi tu dei libri, quindi qualsiasi insieme di... Sì, quindi un collettivo potrebbe essere, proprio in generale. Ok. Oppure raccolta appunto colta da terra, non mi viene in mente nulla. Oppure raccolta differenziata. No. Però raccolta come aggettivo co... No, lo so. Oppure raccolta di... Sì, una raccolta appunto è sempre un album, è una collezione. Eh, esatto. Una collana, però... Comprensivo. Un comprensivo potrebbe essere. Sì. Oppure raccolta... Chiamare a raccolta. No, è una raccolta. Usiamo. Carolina, che facciamo? Compriamo il terzo elemento. Ok. Allora, dimezziamo. 3.813 euro. Andiamo a scoprire il terzo elemento. Regalo. Confezionato. Però... Ok. La raccolta non... Ok. Il regalo... Un regalo è un... Un pacco regalo, un biglietto per il regalo. Un... Un regalo di compleanno. Sì. Ok. Regalo... È un... Quando fai un regalo? Per un'occasione? Per un... Appunto per un compleanno? Sì. Un regalo... Oppure io regalo, io con... Io con... Concedo, no? Però confezionato con raccolta potrebbe starci. Non lo so. Regalo con... Cos'altro può essere il regalo? Un regalo... Un pacchetto regalo? Sì. Oppure un regalo di... Sì. C'è anche ad esempio il premio in regalo, come si chiama? In palio. Ok. Se fosse collettivo nel senso che è dato dal gruppo? Potrebbe essere. Oppure il regalo... Regalo di... C'è la decisione del regalo. Sì. Il biglietto di auguri. Qualcosa che è in regalo quando... È pescatutto Carolina? Collettivo. Qual è l'ultima parola di stasera? Proviamo con collettivo. Togliete pure le cuffie. Collettivo? Sì. Ok. Come lo leghiamo? Con raccolta. Abbiamo pensato a raccolta nel senso di un collettivo, ad esempio una raccolta di opere, di libri e col regalo non ce l'abbiamo. Un regalo collettivo ci potrebbe anche stare, no? Ognuno mette una quota, è un regalo collettivo. Se fosse una raccolta di DVD, di CD, di dischi, di opere... La parola di stasera del valore di 3813 euro. che lega, raccolta e regalo è... Cofanetto. Non benvenuta. Un cofanetto, una raccolta e un cofanetto regalo. Adesso si usa molto come regalo, no? Per esempio di buoni per viaggi, per cene. Cofanetto regalo. Peccato ma siete ancora campionesse.